L'intervista, un podcast di Giovanni Certo Ma, notizie, approfondimenti, attualità. Un saluto e un abbraccio a tutti gli amici che ci seguono in podcast e in videocast. In questa puntata vi racconto la storia di un amico, quella di Carlo Iannuzzi. Ma partiamo proprio dall'inizio, da molto ma molto lontano. Lo facciamo, questo racconto, in una maniera diversa rispetto al solito. Carlo, innanzitutto ti ringrazio per la disponibilità a condividere con i nostri ascoltatori la tua storia personale che inizia quanti anni fa? Quando sei nato e dove? Allora, io sono nato nel lontanissimo 8 settembre, che non è un caso ovviamente, perché l'8 settembre lo conosciamo tutti come data storica per il nostro paese, che io rivendico. L'8 settembre del lontanissimo 1986. Sono nato qua in Calabria, a Locri. Ed è inutile dirti, caro Giovanni, e tu sei benissimo il perché, che io sono assolutissimamente fiero e orgoglioso di far parte di questa realtà. E tra breve anche i tuoi amici, i tuoi ascoltatori capiranno il perché. Tu sei figlio unico? No, siamo tre fratelli. Tu sei il primo? Io sono incredibilmente il primo. Ma i primi saranno gli ultimi, diceva qualcuno, quindi bisogna fare attenzione. E quando sei nato immagino che i tuoi genitori abbiano fatto una grande festa? Eh sì, sì, sì. Non si immaginavano mai che gli potesse capitare una tale disgrazia, però erano contenti. Non ricordo, scusa l'anno, perché adesso mi sono distratto. 1986, 1986. 1986, l'anno dei mondiali, c'erano i mondiali mi ricordo. Eh, non ho idea. Però sì, 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 era l'86, sì. I mondiali, se non ricordo male, Maradona fece quel famoso gol col braccio. Io non ho parlato a caso di Argentina, perché poi nella tua storia personale l'Argentina ritornerà. Che infanzia è stata la tua? No, è stata un'infanzia molto, molto bella, perché non mi è mai mancato nulla. Né da parte di quell'angelo benedetto di mia madre, né da parte di mio padre, che come sanno tutti, ormai non c'è più. E quindi sono assolutamente orgoglioso e riconoscente per tutto quello che ho avuto. Hai avuto le coccole dei nonni o non c'erano più? No, bravo. Quello purtroppo mi è mancato perché sono arrivato forse troppo tardi o se ne sono andati troppo presto loro. Io tra l'altro ho avuto tua nonna, tua nonna materna. Eh sì, bravo. Lei era veramente molto conosciuta qua a Roccella. La mia maestra delle scuole elementari. Bravissimo, sì. Ti confido, caro Giovanni, che mia mamma, avendo questo legame molto forte con la buonanima di mia nonna, voleva a tutti i costi cosa? Una femmina ed è stata ricompenzata con tre cinghiali, non con tre maschiacci. Il caso. No, però io là ti volevo. Occhio al caso. Mia nonna, come dicevi poco anzitutto, si chiamava Iole e allora il terzo figlio, siccome siamo Carlo, io, Davide il secondo e il terzo, si chiama esattamente come? Come l'anagramma del nome Iole, ossia Elio. Dici tu, è un caso, perché allora c'era nel lontano 92 Elio e le storie tese che andava alla grande e mia mamma in realtà lo voleva chiamare Edoardo, però spinta da me e dall'altro mio fratello alla fine ha scelto Elio, che è l'anagramma di Iole. Un caso, dici tu? Ci credo poco io. Senti, la tua infanzia l'hai trascorsa sempre a Roccella Ionica, sei stato? No, 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 nella meravigliosa Roccella Ionica, nella splendida Roccella Ionica. Che diverso. E tra i momenti più belli di quando eri bambino, cosa ricordi? Erano gli anni ancora in cui si giocava all'esterno, si correva? A voglia, sì. Guarda, io proprio qua sotto, ce l'ho davanti agli occhi adesso, c'era la strada dell'ex comune, che tu conosci benissimo, dove era appuntamento fisso per tutti i miei, la mia compagnia, fare la cosiddetta tedesca, cioè giocare a pallone in mezzo alla strada, 4-5 ragazzi che giocavamo e ci passavamo i pomeriggi interi, allora che non era epoca di cellulari, di smartphone, di computer, erano altri tempi. Mi sto facendo sentire veramente anziano. Ma che bambino sei stato? Eri uno tranquillo? Assolutamente no, no. Oppure ne combinavi, ne combinavi? Bravissimo, sì, ne combinavo veramente tante. Io e la parola tranquillità non siamo mai andati d'accordissimo, devo essere onesto. Però, nonostante tutto, nonostante le mie infinite, passiamo il termine, cagate, cazzate, ho sempre avuto dalla mia parte, mio padre e mia madre, che mi hanno sempre sostenuto e incitato ad andare avanti. Avevi una compagnia, immagini? Sì, come tutta Roccella, come tutti i paesini dove siamo cresciuti, diciamo. Qualcosa di quando andavi alla scuola elementare, cosa ti ricordi? Anche già da allora uscivo pazzo perché avevo proprio una qualità innata per la matematica e c'era la buonanima della maestra Valenti che usciva pazza per me perché anche lei capiva la mia passione che avevo per la matematica. E da allora ho portato dietro di me, con me, questa mia, diciamo, passione, tanto da riuscirmi a farmi poi laureare in ingegneria informatica. Quindi scuola elementare è sempre a Roccella Ionica, no? No, nella meravigliosa Roccella Ionica. Meravigliosa Roccella Ionica, splendida Roccella Ionica e poi anche la scuola media, no? Sì, 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 sempre qua. E della scuola media ti ricordi c'è stato qualche insegnante che per te ha rappresentato un punto di riferimento, ti ha sostenuto, ha tirato fuori ancora di più i tuoi talenti? No, onestamente se posso e devo essere sincero, in scuola media non ho, diciamo, delle passioni che ho portato con me, tanto quanto ho portato sia in scuola elementare ma soprattutto come arriveremo alle superiori. Quindi non hai un bel ricordo della scuola media? Niente da segnalare. Nel suo sorriso che mi preoccupa, professore. Niente da segnalare. Penso di no. Ma neanche tra i compagni, immagino di sì, avrei fatto nuove amicizie. Sì, certo, però come tutto erano, diciamo, passeggeri perché poi tre anni e andavi via. No, no, devo essere sincero, già alle superiori era diverso. Ecco, la scelta della scuola superiore da che cosa è stata determinata? Da questa consapevolezza dell'amore per la matematica? No, in realtà devo e voglio essere sincero con te e con tutte e tutti. Allora, all'epoca, avevo veramente, diciamo, la passione per lo studio non era tra le mie priorità e quindi realisticamente sapevo che se fossi andato allo scientifico o ad altre scuole superiori simili e mi fossi solo diplomato non avrei avuto nulla per il mercato del lavoro, al contrario di quello che ti poteva offrire invece una scuola come l'industriale. industriale che però, e qua si aprirebbe un universo non un mondo, aveva, perché buonanima non c'è più nemmeno lui, la fortuna di avere uno dei migliori professori esistenti sul pianeta Terra che era il professore Toto Simone. Professore di italiano? Italiano, sì. Lui che era veramente un pozzo di scienza e che ha appazzato veramente a determinate crape, come erano denominate la scuola, a tutti riusciva a passare, non dico l'amore perché forse è esagerato, ma quantomeno la passione dello studio. E anche la passione per la politica gli ha trasmesso. Ma guarda, lui ci teneva a dire che la politica e la scuola devono necessariamente viaggiare su binari paralleli e quindi distanti. Però te lo faceva capire che l'amore per la politica, per il bene comune, è un qualcosa su cui tutti quanti dovremmo spendere del tempo e lottare. Quindi secondo me anche il suo insegnamento è rimasto dentro di me. Ma lo hai avuto per cinque anni o soltanto gli ultimi tre anni? No, in realtà per tre anni perché l'industriale è composto da un biegno che è comune a tutti e poi da un triennio dove si sceglie la specializzazione più adeguata alle proprie passioni. E ti ripeto, è stato veramente un insegnante di vita, tanto che le semplici parole non sarebbero sufficienti a descriverlo adeguatamente. E al di là dei momenti in classe, a scuola, istituzionali, avevate con lui un rapporto anche fuori dalla scuola, organizzavate qualcosa? No, organizzare di organizzazione classica no, però lui era un frequentatore assiduo del cosiddetto albero della scienza. In piazza San Vittorio? In piazza San Vittorio, in piazza centrale qua da noi nella spettacolare Rocella. E no, era veramente una gioia ogni qualvolta ci si incontrava e ci si vedeva per strada. E avete fatto qualche gita scolastica assieme, vi ha accompagnato da qualche parte? No, con lui in realtà no, perché la gita quella forte che è del quinto superiore l'abbiamo fatta con un altro professore, quindi lui non si prestava tanto a questo genere di iniziative. Nel momento in cui bisognava scegliere, dal triennio in poi, l'indirizzo cosa hai scelto? Guarda, sono tre indirizzi che si possono scegliere qua all'industriale. La faccio rapida perché vorrei arrivare al punto della nostra discussione, perché già ti vedo che sei con lui. No, no, ma io credo che sia molto interessante andare un po' a ricostruire la storia personale, perché poi andando al ritroso si trovano, come dire, gli elementi base di quello che poi sarà quella persona nel futuro, no? Verissimo. E a me appassiona moltissimo fare questo tipo di racconto. Ci sono tre indirizzi possibili, adesso forse li hanno anche modificati, che ai miei tempi, anta e anta anni fa, erano elettrotecnica, quello che ho scelto io, meccanica e tecnologie alimentari, dove era la chimica. Io ho scelto, come la maggior parte dei miei allora compagni di classe, l'elettrotecnica perché pensavo sempre fosse un qualcosa che dal punto di vista lavorativo ti concesse più opportunità rispetto alle altre. Con quanto sei uscito dall'istituto tecnico? Allora, dall'industriale sono uscito con 92, che era il secondo voto più alto perché con noi c'era un cosiddetto piombino, che non vedeva altro che i libri di scuola, che ovviamente è uscito con 100, mentre io con 92. Numero, professore, caro Giovanni, su cui io ti prego di prestare la massima attenzione. Perché? Ritorna. E allora che te lo dico a fare. 92 è stato il mio voto di diploma, diciamo. Quindi la mettiamo là e poi magari… Eh no, ma tu lo sai benissimo perché puoi creare suspense per i tuoi ascoltatori. Vediamo se ritorna poi ancora il 92. Ma nel frattempo, mentre studiavi, a parte che abbiamo intuito che non mi pare dedicarsi moltissimo tempo allo studio, cioè quanto studiavi? Devo essere onesto innanzitutto con me stesso e poi con gli altri. Io sono uscito molto bene dalla scuola perché oltre a quella persona che era irraggiungibile c'era un livello medio molto basso, quindi necessitava poco sforzo per riuscire a uscire con un ottimo voto. Ti ripeto, sulle materie scientifiche soprattutto, ma anche sull'italiano grazie al professore Simone, mi sono sempre speso non tanto per la passione per lo studio in quanto tale, quanto per la curiosità. Io sono un ragazzo molto curioso, devo essere onesto. e quindi era il voler spingermi oltre a concentrarmi sempre di più. Ma non mi hai detto quante ore studiavi al pomeriggio? No, ma un paio d'ore e niente di più, nemmeno tutti i giorni. Perché avevi altri impegni, immagino. Anche sì, oltre alla politica facevo anche sport, quindi... Che sport praticavi? Allora, quando ero bambino ho praticato per diversi anni la palla a mano, con Pino Gemelli, che sicuramente conoscerai, Pino che era veramente un grande professionista e che ci ha fatto arrivare sui tetti d'Italia, riuscendo a vincere per diversi anni consecutivi il titolo nazionale di palla a mano e poi, come ogni ragazzo che ha un iter preciso, il pallone, il calcio. Cosa ti ha dato la pratica sportiva a livello di carattere, di personalità? Cosa ti ha insegnato? Mi ha dato, diciamo, più consapevolezza nel fatto che ogni nostro singolo sforzo, in realtà, col passare del tempo, è ripagato. Seppur nell'immediato magari non ti può sembrare così, è solo una questione di tempo. E arriviamo quindi al dopo, dopo il diploma bisognava scegliere l'università. È stata difficile la scelta o quasi naturale? Se torno a quegli anni, sempre con la testa di un minorenne, perché io mi sono diplomato minorenne e poi il compleanno da 18enne, siccome io sono nato a settembre, l'ho fatto la cosenza con gli altri ex colleghi, ex compagni, insomma, di casa. Come ogni ragazzo, diciamo, non bambino, però come ogni ragazzino, mi affascinava di brutto, università tipo Roma, tipo Bologna, non tanto quanto per l'offerta didattica che ti potevano offrire, ma per l'infinità di mondo che avevi a disposizione. E non solo politico, immagino. No, assolutamente, dobbiamo essere onesti. C'era, non delusione, non è un termine adeguato, però c'era la voglia pazzesca di salire a Roma, a Bologna, poi a testa, a Gerbeio. Anche il senso pratico mi ha spinto ad andare qua all'università di Cosenza, che comunque dal punto di vista delle materie scientifiche, soprattutto ingegneria, è rinomata a livello nazionale e anche internazionale. Quindi hai scelto ingegneria... Ingegneria informatica, perché quando ero ragazzino, sempre grazie al professore Simone di cui abbiamo a poc'anzi parlato, ricordo ancora che seguì con altri compagni di classe, di classe compagni, perché questo è un termine molto particolare, un corso informatico per la patente europea. E allora la passione per il computer, per il computer più che per l'informatica, mi è salita sempre di più dentro, tanto da spingermi a scegliere ingegneria informatica. Anche conscio del fatto che la matematica ero portato, quindi mi piaceva un po' di brutto. Immagino tu poi abbia scelto di abitare a Cosenza, no? Di non fare soggio. Sì, sì, sì. Ho vissuto diversi anni con Roccellesi, ma anche con altri ragazzi, sempre calabresi ovviamente. È inutile dirti che mi trovavo di stralusso, perché erano tutte persone splendide, che non so se ero io davvero la calamita, ma che avevano veramente innato il dono di condividere. La condivisione ce l'avevano veramente innata. Cosa che poi a me ha fatto crescere, perché anche io poi, di conseguenza forse, sono sempre stato un tipo su cui la condivisione ci ho puntato tanto. E quando eri all'università, ogni quanto tornavi a casa? Non dico ogni fine settimana, ma ero veramente quasi più qua che là, perché questo splendido, meraviglioso paese è veramente difficile allontanarsi. Ti mancava soltanto il paese o ti mancavano gli affetti familiari? No, ovviamente gli affetti. Ogni volta che tornavo mia madre faceva festa, quindi c'erano le mitiche, ineguagliabili zeppole di Mariolina che mi aspettavano, quindi inutile che io le dica a lei, e sì mio professore, a cosa mi riferisco, perché lei è assolutamente consapevole. Ti ricordi il tuo primo esame, qual è stato all'università? Allora sì, onestamente sì, e devo dire, guarda c'ho i brividi anche solo a ripensarci, che là ho percepito come io probabilmente non mi potessi mai poi mai laureare, perché immaginavo se tutti gli esami sono impossibili come questo, io qua non riuscirò mai a venirne fuori. Era l'esame di calcolo 1, derivate, integrale e quant'altro. Per me arabo. Lo era anche per me, però anche là è stato sufficiente un po' di impegno, un pochino di passione ed è andata via. E quanto hai preso in quell'esame? Una ventina, non tantissimo. Però tra i primi esami c'era anche fondamenti di informatica che mi fece uscire con 29, non dico 30 perché il 30 è stato un voto che io ho preso quasi mai, ho preso a uno o due esami. E quindi là ho capito veramente che l'informatica era qualcosa su cui puntare. Ma andavi alle lezioni ogni giorno oppure studiavi? Sì, no, no, era quotidiana, le lezioni erano quotidiane. Erano mattina e pomeriggio, erano tutti i giorni, entrano ovviamente il fine settimana. Quindi la frequenza era obbligatoria? Sì, no, no, in realtà no, perché c'erano alcuni corsi in cui ti chiedevano perfino la firma, però c'erano altri che non te la chiedevano, però erano questioni di intelligenza. Cioè se tu già frequentavi tutte le lezioni, riuscivi a malapena, con difficoltà a superare l'esame, se non le frequentavi era matematicamente... Ed eri... sei stato sempre in linea con gli esami o...? Assolutamente no, assolutamente no. Quindi famoso fuoricorso. Ma orgogliosamente fuoricorso. Ma già dal primo anno? Perché tra le varie... ovvio, ovvio, fuoricorso già prima che io mi iscrivessi. No, perché la cosa... adesso io ti ringrazio perché mi stai stimolando la memoria, perché ripensandoci bene, uno degli episodi più impattanti del mio essere là all'università è stata una mattina di primavera dove incontrai un grosso omone con le ciabatte che parlava esclusivamente e solamente in dialetto. E chi era? E' quella persona che era il grandissimo guerino Nistico, figlio del compianto Franco Nistico, colui che qua in Calabria si è opposto fino alla vita perché è morto indegnamente, causa... E poi ne parliamo più avanti. E incontrai questo personaggio di fatto che mi aprì le porte, per me assolutamente sconosciute, al collettivo politico universitario. E da lì, crescendo dentro di me una sempre maggiore consapevolezza sul darsi da fare per il bene comune, mi ha spinto praticamente a essere appunto fuoricorso ancora prima di iniziare, perché tra iniziative politiche, tra impegni anche tramite il partito, perché nello stesso tempo ero segretario giovanile del partito comunista a Quarrocella dove organizzammo niente poco di meno che il festival nazionale dei giovani comunisti, era veramente difficile stare dietro con gli esami. E in tutto questo i tuoi genitori, il tuo papà, la tua mamma, cosa ti dicevano? Cioè stai perdendo tempo? Se avevano una pazienza infinita, vabbè, anche perché io comunque me la giocavo bene già, nel senso che ovviamente incidevo sempre sulla difficoltà, però poi di fatto era più una questione di volontà, più che di difficoltà sugli esami stessi. Però è anche vero, perché bisogna essere onesti, che poi con molta pazienza, ma alla fine ce l'abbiamo fatto. In quanti anni ti sei laureato? Indicibili. Per amore della vergogna preferisco non dirlo. Però, questa cosa me la ricordo perfettamente. Sai cosa ho fatto io, cosa ho dovuto fare per laurearmi? Dimmi. Io ho dovuto chiedere le ferie, perché io ancora prima che mi laureassi già lavoravo a Bologna con contratto a tempo indeterminato presso una nota azienda informatica. E di questo ne parleremo. Però devi raccontarci uno degli episodi, o l'episodio più significativo, più stravagante degli anni dell'università. C'è qualcosa di quasi inimmaginabile. È una domanda che ti faccio. Io la risposta la so già. Non so se poi mi racconterai dello stesso episodio. perché io, senza parole, non so dove vuoi arrivare. Ti temo, onestamente. E vorrei sapere come sei arrivato a Roccella Ionica una volta, partendo da Cosenza. Eh vabbè, là ero. Sapevo che volevi arrivare là. Quelli erano gli anni dell'università, no? Ovvio, ovvio. Eri già alla fine o ancora? No, assolutamente. Allora, era una mattinata di luglio, in quanto c'era la sessione estiva degli esami, ed era domenica, e lo ricordo perfettamente. Perché? Perché essendo domenica non c'erano i pullman, cioè l'unico mezzo di trasporto che ti consenteva di arrivare fino a Cosenza e di tornare a Roccella. Fatto sta che io mi alzo con i ragazzi e dico, vabbè ragazzi, bella, io me ne torno a Roccella. E tutti che mi guardano straniti, come? Carlo, oggi è domenica, come fai a tornare a Roccella? Me ne torno in Vespa. Loro pensavano che io scherzassi. Perché tu avevi a Cosenza portato la tua Vespa. Avevo la 50 Special Rossa, con la quale appunto mi feci la crocetta, che è una salita inimmaginabile su Cosenza, uscendo sulla Statale 18, la cosiddetta Tirrenica. E poi dalla Tirrenica, per attraversare la Calabria, perché dal Tirreno devi spostarti sullo Ione per arrivare in questa maraviglia di paese, c'è un problema. Perché la strada, perché c'è solo una di strada, se strada si può chiamare, la possono fare solo i motori di una certa classe in poi, la mia che era una 50 Special, non poteva farla questa strada. E allora che fai Carlo, che non fai? Faccio la strada meno fattibile che si possa immaginare. Non a caso si chiama la Uno, ed era una strada allucinante, con una salita dello Zomaro, che era veramente inimmaginabile. Tanto che io, arrivato lassù, su questa salita impervia, la mi resi conto, cazzo, se sono arrivato fino a qua, allora ce la posso fare. Mi feci tutta quella strada uscendo a Gerace. A Gerace, poi si esce a Locri. Mia madre lavorava all'allora Museo archeologico nazionale di Locri. Allora io la chiamai e le dissi, bella mamma, dove sei? Ah no, sono al museo, perché, ah, vuoi che passo come? Che passo perché tu dove sei? No, io sono qua a Locri. E lei ovviamente. Ma quindi, ma hai fatto tutta una tirata? Certo, però, ovvio. E a che ore sei partito? Sono partito a mezzogiorno, sono arrivato qua la sera. E ti sarei fermato però, immagino, lungo il tragi. No, mi sono fermato solo a fare benzina. E quindi non hai mangiato nullo, ti hai riportato qualcosa da... Ah no, 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 ti stavo dicendo una sciocchezza. Mi sono fermato in quel di Cleto, dove c'è un grandissimo amico, un compagno che organizza ogni anno il Cleto Festival, un festival spettacolare. In che provincia si trova Cleto? Mi fermai là, quando partì a San Lucido che avevo un amico, e poi una tirata perché panino e via in mano, perché era veramente tanta la diffidenza sul fatto che io ce la potessi fare. All'ingresso di Roccella, una volta che sei arrivato all'ingresso, è stata una bella soddisfazione. Mamma mia, io ancora ricordo che invece di Benvenuti a Roccella, comune gemellato con Arco, io leggevo Benvenuto Carlo. Cioè, è stata veramente una soddisfazione, veramente. Tanto che lo so che forse è immaturo, ma io lo consiglierei a tutti di farlo, perché veramente... Hai fatto l'ingresso, diciamo così, quello ufficiale, centrale, cioè hai fatto tutta la nazionale, poi sei arrivato fino in piazza... Gloriosi Picatari. Sei salito dalla piazza? Sì, sì, ovvio, me la dovevo gustare. Sennò, oddio, prima mi sono fatto un giro sul lungomare, perché... Di defaticamento, diciamo. Bravo, sua maestà Mariglionio andava omaggiato, e poi sono risalito verso i Picatari. E tua mamma, tuo papà, come ti hanno accolto quella sera? Erano veramente tutti scettici, perché tutto ci potevano immaginare, tranne che io avessi una testa tanto pazza. Però ancora non ho visto niente, non spoileriamo nulla. Non abbiamo ancora parlato però dei tuoi fratelli, in quegli anni dell'università, ecco. Vi consigliavate, vi confidavate? Che rapporto c'è stato con i tuoi fratelli? No, onestamente, diciamo che c'è sempre stato un rapporto molto presente, perché una volta mi hanno visto anche sul Tg3, quando venne Napolitano a fare un'inaugurazione, mentre venivano tagliati ogni qualsivoglia sostentamento all'istruzione pubblica, e quindi vedendomi in prima linea al Tg1 regionale o a tutte le corbellerie che provocavo, il rapporto era sempre costante. Prima hai parlato di una figura, hai accennato una figura che ha fatto qualcosa di importante per la Calabria, mi piacerebbe che ne parlassi nel dettaglio, perché merita. Stiamo parlando di Franco Unistico, chi era? Non sto scherzando, ma mi hai fatto salire veramente i brividi, perché io qualvolta ascolto questo nome, ho veramente i brividi, ragazzi. Questa, allora, ancora lo ricordo perfettamente. Stiamo parlando di più di dieci anni fa, e io, insieme a tutto il collettivo politico di cui facevo parte, di cui abbiamo poc'anzi parlato, andammo un giorno in quel di Reggio Calabria. Perché? Perché c'era organizzata una manifestazione a favore e a tutela delle piccole e grandi opere, se così le vogliamo chiamare, quali strade, ferrovie, infrastrutture basilari, che non sono nient'altro che ciò che è scontato nel resto del mondo, mentre qua in Calabria è utopia. E in questa stessa realtà, dove tutto questo è utopia, cosa volevano fare? Avevano la genialata di organizzare la follia del ponte sullo stretto, che proporla già è un'opera indicibile, ma proporla in una realtà come questa, cioè sta all'intelligenza di ognuno di noi riuscire a capirlo. Non è più nemmeno che è una cosa scontata. E Franco misticò? Il grande Franco misticò. Allora, io ero sempre, come ti dicevo, con questo collettivo politico, del quale Guerino era la figura paterna, perché era il nostro uomo simbolo. Guerino è il figlio di Franco. Sì, Guerino è Franco. E io ero insieme a lui, sotto al palco, ad ascoltare ogni singolo intervento, ripeto e ribadisco, a favore delle infrastrutture pubbliche basilari, cazzo. Cioè, a me sembra indicibile che nel 2023 si parli ancora di questa roba qua. E allora, tutti i grandi, c'erano veramente un'infinità di associazioni, di attivisti, eccetera. E si stavano susseguendo i vari interventi fino a quando toccò a chi? Al padre proprio di Guerino. A Franco misticò. Da sempre in lotta per il bene comune, per le infrastrutture basilari della costa Ionica, perché lui è di Badolato, un paesino vicino alla meravigliosa. Io ero veramente con un orgoglio infinito, perché avevo accanto Guerino, il figlio di cotanto maestrone. Fino a quando sarà stato il generoso impeto che Franco aveva donato a tutti noi, si sentì male e svenne. Dirai tu, Giovanni, come diranno coloro che ci stanno ascoltando, vabbè, niente male, perché in una manifestazione tanto enorme è impensabile riuscire a immaginare una tale manifestazione senza neanche un'ambulanza, ragazzi. Non c'era un'ambulanza. Non c'era un'ambulanza pronta a soccorrere chiunque ne avesse bisogno, tra i quali, appunto, Franco, il quale purtroppo rimase vittima di quella stessa Calabria che lui stava pubblicamente denunciando. E, in suo onore, però, giusto poi riportarlo a noi, cosa si è voluto fare? In suo nome si è creata, qua in Calabria, la rete in difesa del territorio franconistico, che raccoglie le varie associazioni e i vari attivisti che in tutta la Calabria sono sparsi in modo tale che si abbia un vero punto di riferimento per la salvaguardia del nostro territorio. Giusto ricordare questa figura che è assolutamente doveroso. Per te, non soltanto per te, è rappresentato e continua a rappresentare un punto di riferimento. La tua esperienza, quindi, universitaria, possiamo dire che è stata un'esperienza unical per giocare sulla denominazione dell'Università della Calabria. Esatto. Unical, Università della Calabria. Esatto. E dopo quest'episodio, naturalmente, tu prima ci hai raccontato, tuo papà, in occasione della venuta di Napolitano, ti vede in televisione. Al TG3 Calabria. Anziché studiare, te ne andavi in giro, insomma, ad essere un attivista sempre più in prima linea, diciamo, va? Ma sì, perché ribadisco, cioè, secondo me, ognuno di noi deve fare qualcosa. Dici tu, ma quello che fai è troppo poco? Sì, forse è anche vero questo, ma se tutti quanti facessimo quel minimo, allora non ci sarebbe bisogno di cercare sempre l'eroe, il salvatore di turno, perché sta a noi, sta ad ognuno di noi, riuscire a cambiare lo stato attuale delle cose. Insomma, agli anni di impegno politico, di studio, quanto basta, ma non abbiamo ancora detto nulla dell'altra sfera che è importante, credo, fondamentale, nel mio caso. C'è la sfera sentimentale. Come hai rimesso sul piano sentimentale? No, ero fidanzato solo con la ragazza più bella di tutta l'università. A Cosenza stiamo parlando. A Cosenza, sì. Lei in realtà non era di Cosenza, è inutile dire che è stato amore veramente a prima vista e io mai potevo immaginarmi che un tale splendore si potesse fidanzare e invece scattò. Sarà stata forse anche la mia anima rivoluzionaria, il mio essere. Come è successo? Ti ricordi se c'è stato un momento, un episodio, una situazione, una circostanza? No, diciamo che il primo incontro vero e proprio è stato anche grazie al collettivo politico perché frequentandolo quotidianamente questo collettivo lei, come tutto il resto dell'università, mi vedeva fondamentalmente quando c'erano queste occasioni. Lei forse era rimasta così, preda anche lei di tutte le dinamiche che succedevano insieme al collettivo e quindi riuscì a conquistarla. il che non fu nemmeno tanto difficile, devo essere onesto perché proprio avevo dalla mia parte tutte le dinamiche politiche universitarie. E degli anni universitari hai fatto anche l'esperienza all'estero? Sì, bravo, mi fa piacere che me lo hai voluto sottolineare perché ci sei arrivato io. Allora, tutti pensano ed è inutile nascondercelo o negarcelo che fare università che fare esperienze all'estero tra le quali appunto l'Erasmus l'Erasmus Project sia solo una voglio essere elegante una perdita di tempo perché? Perché l'università si va solo per cazzeggiare o per diciamo per perdere tempo voglio essere elegante no, però in realtà devo dire che è stata un'esperienza fantastica quanto sei stato in Repubblica Cecca? Sono stato sei mesi vicino Praga la città si chiamava Ostrava ed è stata veramente una esperienza indimenticabile tanto perché uno perché ero partito ovviamente con un po' di timore perché cazzo vai dall'altra parte dell'Europa con il tuo inglese balbettante ed eri anche fidanzato ancora no? Sì, ovvio hai questo inglese che ovviamente non può essere a livelli tali per cui puoi partire diciamo tranquillo quindi c'è un po' di timore sotto quel punto di vista però onestamente è un timore che poi se ne va via automaticamente da solo semplicemente vivendo la giornata io di quella esperienza ho ricordi veramente fantastici però mi preme mi fa piacere sottolineare il legame forte autentico che ho instaurato con alcuni di loro dei miei ex colleghi universitari internazionali tra i quali c'era il grandioso Felipe un portoghese alto un metro una banana ma con dei bicipiti enormi perché è un insegnante di capoeira e lui tanto si era instaurato un bel rapporto tra di noi che poi è stato presente anche nel dopo di quei mesi in Repubblica Ceca oltre all'incontro con Felipe c'è qualche altro episodio ma nel frattempo restavi sempre fedele la tua fidanzata assolutamente oppure c'è stata qualche tentazione perché insomma la rischieremmo di offendere la nostra intelligenza assolutamente sono concordo con te sarebbe inutile dire dirti dirmi e dirci che le tentazioni assolutamente non mancavano però io ero così follemente innamorato che non vedevo niente e nient'altro ma dove alloggiavi in un albergo a 5 stelle no? sì certo no ovviamente stavo con gli altri colleghi universitari dell'Erasmus dentro le residenze universitarie e nel frattempo la tua fidanzata era ancora a Cosenza che studiava o sì lei è stata a Cosenza per un po' di tempo e poi si è trasferita a fare l'Erasmus anche lei però a Valencia in Spagna cosa che appena l'ho saputa io mi sono fiondato facendo Praga Valencia in treno perché le pesetas ovviamente erano molto risicate stiamo parlando di un monte ore di ma questo è niente per chi per chi ha potuto sentire i brividi di farsi Cosenza Roccella in Vespa quindi sei andato in Spagna alla fine quanto ci hai messo più di 20 ore giorni no però quasi un giorno 24-25 ore tutte esatto sì sì penso di sì però il rivedere quel sorriso biondo quelle labbra incastonate in quel viso angelico sono state la ricompensa più forte che io potessi avere un informatico come te che riesce a tirar fuori anche questo lato poetico non è male no bravo questa cosa me l'hanno sempre ripetuta in parecchie persone il fatto che io non mi rendessi conto di quanto dal punto di vista professionale si legasse anche un punto di vista non filosofico non letterario ma e mentre eri in con la tua fidanzata dell'epoca accade qualcosa io non voglio solamente interrompere la discussione però ti volevo solo far notare che ha passato quasi in aura e trasmissione ancora non siamo arrivati al punto e no perché questo è il bello e credo che in Spagna sia successo per quanto ti riguarda una delle cose più importanti o comunque una delle prime cose importanti perché arrivano telefonate ancora lo ricordo a me la cosa che preme diciamo evidenziare è che alcune cose ma lo metto io stesso che le sto raccontando sembrano veramente tutte inventate invece mentre esatto e sì allora ovviamente ero ero coricato con eravamo ovviamente nella stessa sullo stesso letto abbracciati e beh certo dove volevi stare non è che dormivate all'americano appunto giusto americano che poi tornerà è giusto evidenziarlo fino a quando mi arriva una chiamata sul cellulare io ero mezzo addormentato però riesco a vedere solo il più 39 che presupponeva il fatto che fosse una chiamata italiana allora io rispondo quasi infastidito fino a quando sento dire sì buongiorno cercavamo il signor Giannuzzi Carlo per una proposta e sì buongiorno se no io mi dica perché altro non era che una chiamata da Roma in quanto io allora con Michela quasi per scherzo per essere onesto avevo mandato curriculum ma non finire anche se con l'università ancora ne mancava un bel po' però ho detto a me che mi costa li mando fino a quando mi arrivò la chiamata di un'azienda italiana che appunto mi voleva sottoporre a un test io ovviamente ero senza parole perché tutto mi poteva aspettare per una chiamata del genere e quindi prendo l'aereo e torno subito in Italia in Italia chiamo mia madre e gli faccio ma c'ho due notizie una positiva e una negativa e lei oh figlio mio non cambi mai dammi quella negativa prima la negativa è che torno in Italia e questa sarebbe la negativa Carlo cacchio non posso immaginare quale sarebbe la positiva la positiva è che ho trovato lavoro e domani salgo a Bologna perché era la sede che avevo scelto a Bologna mi trovo stra bene perché è veramente una città a misura d'uomo io sono rimasto veramente stupito perché ad una città ovviamente enorme perché è una delle città più grandi d'Italia si potesse associare una dimensione veramente umana qualcuno un grande fra di noi diceva restiamo umani secondo me a Bologna si è veramente e dove vai ad abitare allora quando vado il primo anno vado con altri studentelli così molto anarchici e andiamo in un appartamento condiviso e poi appunto torno in Calabria mi laureo e ritorno a Bologna cerco di stringere professore perché sennò lei lo so che ama questi momenti così lenti però io ho impellenza di voler arrivare al dunque mi adeguo ok se la cosa non la disturba e greggio professore mi adeguo mi adeguo e allora la Bologna dopo essermi laureato e dopo aver preso casa mi salgo tramite il papà di un amico che era camionista mi salgo la 50 special rossa la famosa quella del viaggio cosenza quella del viaggio esattamente e però lì ho commesso la cazzata più enorme che io potessi mai commettere perché a Bologna le vespe sono un attimo tanto che io nonostante l'avessi sotto casa l'avessi parcheggiata proprio sotto la finestra della mia stanza una notte via sparita un pezzo di cuore mi hanno fottuto quella notte sì sì lo confermo e dopo il furto della vespa immagino fossi un po' arrabbiato a dir poco tanto che quando io me ne accorsi io ero ancora con la faccia sulla finestra e battevo pugni per sfogarmi tanto che Michela sentendo sentendo tutti questi quest'occasione dice Carlo ma che sta succedendo niente Michela mi hanno fottuto la vespa e cosa succede poi da lì in poi allora poi con Michela finisce di merda devo usare le espressioni adeguate perché se tu becchi la tua ex ragazza in piazza maggiore con uno stronzo che le tocca il culo e tu quindi ti fiondi uno per capire la situazione due per riempire di pugni quello stronzo ma c'era una storia tra di loro oppure lo ignoro ma non mi interessa io spaccando di calcio e pugni sto stronzo là in mezzo a piazza maggiore con tutta la gente immagino esatto che ci vede che chiama gli sbirri gli sbirri arrivano capiscono la situazione quindi non mi ci mandano a casa io là ovviamente con Michela la rompo subito perché tutto potevo immaginare tranne quello e lei va a vivere fuori perché io resto in casa con chi avevamo fino a quando fino a quando passa tempo passano mesi mesi e mesi quanto passa passa quasi quasi un anno e io per resto ma eri eri ancora innamorato di Michela nonostante tutto no non ero innamorato ero perso perché io la cosa che non sono mai riuscito a compiere ancora oggi lo ammetto è riuscire a chiudere perché a sto amico non si comanda professore certo e la razionalità qua non entra in campo scompare talmente tanto che a me un giorno a Bologna arriva una voce questa voce tramite amici amici e amici mi arriva dicendomi ah Carlo ma lo sai Michela non è più qua perché è partita ed è andata in Sud America dico io vabbè contenta lei Sud America dove? in Argentina a Buenos Aires ah quindi già vabbè però Buenos Aires è talmente enorme mi sembra che sia due volte Roma giusto per intenderci e già però inizi il cervello l'anno non c'era più perché mi mangia di brutto l'idea sì Carlo però cosa vuoi fare cosa puoi fare cosa non puoi fare sarà stata la pazzia sarà stata la follia ma nel frattempo stavi sempre lavorando certo e io mi licenzio da quel contratto a tempo indeterminato vorrei sottolineare sta cosa cioè un contratto a tempo indeterminato tutti quanti avrebbero fatto insomma carte false per averlo tu ti licenzi di punto in bianco per andare dove ma non lo sapevo nemmeno io perché io avevo dentro di me la consapevolezza a questo punto posso anche dire patetica però allora non potevo ragionare non ero in me non ero Carlo Iannuzzi ero qualcos'altro qualcun altro questo non esisteva più perché io avevo la speranza la fiducia che Michela sapendo di tutto quello che avevo fatto del licenziamento dal contratto a tempo indeterminato e della partenza per uno stato dall'altra parte del mondo in sintesi come qualcuno ama dire ho giocato tutto il giocato sta a voi riuscire a capirlo se uno si licenza il contratto a tempo indeterminato senza sapere lo spagnolo se ne va in Argentina ma avevi qualche amico dove ti appoggi? per fortuna sì avevo un'amica che aveva frequentato con me nello stesso collettivo politico a Cosenza che è di un paesino qua vicino di Bivongi che mi ospita i primi i primi i primi giorni anche lei diciamo entusiasta per il fatto che mi vedesse là però stranita perché non riusciva a capire io è ovvio Giovanni è ovvio che lo dica ma è scontato perché tutto avevo detto tranne appunto la verità e cioè che io tutto questo l'avevo fatto fondamentalmente per amore e tutta sta cosa di nascosto i tuoi genitori e la tua famiglia non sapeva nulla? nessuno nessuno sapeva niente nessuno sapeva nulla nell'arco di quanto tempo hai preso questa decisione importante? no no è stata io penso che dei temati decisioni avvengono all'istante un giorno ho capito veramente cosa conta veramente per me nella vita per me la risposta era solo lei e io volevo dimostrare a lei ma ripeto a me stesso innanzitutto che io per lei ero disponibile a fare quello che ho fatto mi licenzio sorpasso l'oceano come si suol dire è arrivato appunto avevo questa amica che mi ospita anche l'estranita e sentendo il mio spagnolo balbettante ma l'avevi comunque preavvisata che se avessi arrivato o no? sì sì ovvio ovvio sapeva almeno che io no però anche lei reputava il mio stare là a Buenos Aires questione di pochi giorni perché sentendo il mio spagnolo così diciamo precario non pensava mai che potessi fare quello che ho fatto allora io un giorno mentre ero da lei le dico bella Giulia mi presti il computer dò un attimo certo Carlo ma perché che devi fare voglio mandare il mio curriculum in giro e lei pensava vabbè sarà curiosità niente di più fino a quando anche nell'altra parte del mondo mi viene a chiamare chi? il primo quotidiano nazionale cioè tu mandi tanti curriculum e loro ti contattano come via telefono via mail certo no via telefono perché avevo già il telefono argentino e ti dicono ti convocano per un colloquio per un colloquio con chi? il responsabile del personale sì certo con la responsabile del personale la quale a un certo punto del colloquio mi fa sbiancare perché perché in tutto questo a me mancavano tre o cinque giorni che io diventassi clandestino perché tu l'hai un limite di tempo che puoi stare avevo già esaurito l'escamotage che era quello di partire per un paese estero quindi io ero andato in Uruguay una notte e una mattina e sono ritornato per aver rinnovato il permesso di soggiorno fatto sta che io quando ero a sto colloquio mi sento sta responsabile che mi dice bene signor Giannuzzi il suo colloquio è andato veramente bene bla 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 te la faccio molto breve però le devo dire che i miei superiori che hanno visto il suo curriculum e c'è un problema io dicevo porca puttana ma questi ce l'hanno ripensato il problema c'è lei mi fa vede signor Giannuzzi lei non va bene qua perché i miei superiori che hanno visto il suo curriculum mi hanno deciso che lei deve andare nei piani più alti dirò no ragazzi sto sognando e questo al primo colloquio è il primo quotidiano nazionale che mi dice una cosa del genere porca puttana no sto sognando una valutazione sulla base delle tue competenze sì è della mia esperienza certo forse anche loro diciamo esterrefatti dal fatto che io mi fossi lavoreato ancora prima che io avessi iniziato a lavorare ancora prima di lavorarmi che mi fossi lavorato in Italia e che poi fossi in Argentina per tutto quanto erano rimasti tu tanto per dare un'idea delle tue competenze tu eri a conoscevi diversi linguaggi informatici sì 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 il C++ il Python il Basic conosci non conoscevi no no conoscevo perché oggi riuscire a lavorare come lavoravo allora è improponibile però qualcosina e ti ricordi il giorno in cui hai firmato il contratto no tu è la selezionatrice ed era niente più po' di meno che il giorno del mio compleanno l'8 settembre e mi fa firmare questo contratto a tempo indeterminato anche in Argentina e di cosa ti occupavi mi occupavo della programmazione dei sistemi informatici informativi del giornale di tutti i processi di background del giornale in pratica e Clarin è il primo quotidiano nazionale sono corrispondente del nostro Corriere della Sera il Corriere della Sera in pratica per farci un'idea per rendere qual è stata la prima riunione a cui hai partecipato cioè hai conosciuto il capo dei capi qua è stata splendida del giornale mi fa piacere sempre che me l'abbia fatto puntualizzato perché mi sarebbe piaciuto anche a me stesso tornare su questo episodio allora io invito tutti quanti un attimo a cercare di estragnarsi da dove sono con chi sono e a provare a semarmi in me allora siete ognuno di voi nel primo quotidiano nazionale e c'è una riunione di relazione quindi con infinite persone sedute ognuno tutti religiosi perché c'è il capo dei capi era come se ci fosse Agnelli alla Fiat questo qui parla un'infinità di tempo tutti zitti tutti in silenzio e questo fa bueno abbiamo sterminato hai alcuno che tenese alcuna pregunto fa vabbè ragazzi abbiamo finito c'è qualcuno che ha qualche domanda io faccio come il culo subito alzo la mano e lui fa ah è il Tano è il Tano lui fa ah è l'italiano dimmi prego lui e io gli faccio perdona c'è però scusa scusa compa ma tu così con tutti a darmi pacche sulle spalle grande grande il Tano il Tano e io non capendo il perché quando poi ho scoperto che questo era veramente il boss dei boss insomma tanto per dire la tua intraprendenza non l'ho nascosta nemmeno là quanto hai lavorato al Clarini ho lavorato e anche là per un senso intellettuale è giusto dirlo ho viaggiato sempre come un matto uno in primis perché mi piace mi appassiona di brutto ancora di più quando il tutto è improvvisato ecco improvvisato quindi sempre con autostop con sacco a pelo ci tengo a dirlo per far capire che l'Argentina è una terra meravigliosa fatto di tutto nel bene e lo scopriamo tu hai viaggiato cioè viaggiavi per lavoro anche molto o no no per lavoro poco e niente però per passione uno perché mi piaceva ribadisco viaggiare due perché avevo sempre quell'idea in testa di ritrovarla e speravo pensavo che lei riuscisse a capire che io ero dall'altra parte del mondo solo per lei stiamo parlando della famosa Michela che nel frattempo era sempre nei tuoi pensieri costantemente c'è poco da fare ci fosse un modo un antidoto per riuscire a togliersela dalla testa io l'avrei usato però non esistendo tra tutti i tuoi viaggi quando eri in Argentina sì ancora ricordo diversi viaggi a Purmamarca Hirusha Umawaka ma ti ripeto la cosa veramente bella come ti spostavi esatto quello stavo dicendo in tren in autostop come capitava autostop per la maggior parte uno perché gratis due perché capiti sempre con gente disastrata quasi quanto te da solo in compagnia come capitava c'erano anche dei gruppi su facebook dove o su whatsapp dove ci si poteva organizzare era sempre tutto alla luce del sole ma era veramente bello ma tutto questo non toglieva come dire spazio al lavoro che facevi eri sempre più sempre più apprezzato no dal giornale sì 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 ripeto con mia enorme sorpresa perché io pensavo che un extra comunitario diciamola così dall'altra parte del mondo come purtroppo anche qua succede spesso non fosse visto di buon occhio però devo essere onesto all'interno del giornale dove lavoravo avevo sempre trattato super di lusso super bene quindi non c'era nessun motivo e quindi il viaggio sicuramente è sempre stato un elemento costante della tua vita e naturalmente quando si viaggia c'è l'incognita c'è l'imprevisto però può capitare anche che normalmente non viaggiando cosa possa succedere quello che poi è successo in Argentina esattamente io ancora ho dei brevi flash io come sanno anche le pietre in questo fantastico paese appunto una notte a Buenos Aires causa aggressione causa rapina vengo assaltato dietro le spalle e vengo mandato in coma era l'anno 2015 ora dice uno va bene va in coma però sei comunque in un ospedale perché devo essere onesto devo la vita ad un tassista che mi ha visto sanguinante in mezzo alla strada non si è fermato perché là non si fermava nessuno nonostante fossero decine decine le macchine che mi avevano visto per paura perché là anche gli abitanti stessi hanno una paura fottuta tutto questo è successo sotto casa tua o vicino casa tua? vicino non sotto vicino perché là ti ripeto ci sono strade enormi quindi ogni quartiere di Buenos Aires è grande quanto la meravigliosa roccella giusto per farci un'idea alla fine sono ancora vivo e vengo subito d'urgenza mandato in ospedale in ospedale capiscono pure là la situazione che era a dir poco critica era tragica e qua viene fuori cerco di trovare le parole eleganti ma non vengono fuori perché qua viene fuori veramente il peggio che una società democratica possa offrire perché nonostante io fossi nonostante io avessi un lavoro a tempo indeterminato nel primo quotidiano nazionale del paese ma io ovviamente non non avevo un'assicurazione sanitaria perché quando mai vai a pensare a una cosa del genere causa intervento che quale dovevo essere sottoposto chiedevano niente una sciocchezza chiedevano solo centomila euro quasi centomila euro prima di operarti o dopo l'operazione no loro volevano assolutamente i soldi prima perché se non avessero avuto la certezza che loro riuscivano ad avere quei soldi non mi avrebbero mai operato che questo penso vada anche in contraddizione con lo spirito stesso della medicina c'è un medico al quale viene sottoposto questo dilemma è veramente tutto tranne che un medico quindi io in coma vengo aiutato aiutato è decisamente riduttivo dall'allora ambasciatore che è Gianluca Guerriero al quale io devo solo la vita perché lui appena si sono reso conti che ero un italiano ha messo di suo pugno la sua firma affinché i soldi fossero stati inviati da parte sua qualora io non li avessi avuti garanzia certo sì perché ovviamente l'ospedale lo richiedeva e ti operano e mi operano appena viene a sapere il tutto mia madre anche diciamo qua tutto paradossalmente perché non sapendo io chi fossi perché mi avevano derubato di tutto riescono a recuperare tra i miei oggetti che avevo con me dentro di me nel portafoglio ragazzi a voi sembra vi ripeto sembra tutto inventare un tesserino dell'alma mater di Bologna università che io non ho mai nemmeno frequentato come si trovava perché io forse andando indietro nei pensieri mi ero era stata la la fase della mia vita in cui volevo provare a fare anche la magistrale all'università e quindi probabilmente mi ero iscritto e non so per quale arcano motivo c'era dentro di me con me quel tesserino e tramite questo tesserino mi riescono a contattare su facebook e contattano mia cugina che vive a Milano la quale contatta immediatamente mia madre che per la prima volta in vita sua si era concessa una vacanza lei appena viene a sapere il tutto si fa il passaporto insieme al grandioso amico Franco Minici del quale anche tu conosci sicuramente che dà una mano per accelerare tutti i passaporti insieme al mio fratellino Elio riescono ad arrivare in Argentina mia madre è rimasta veramente scioccata nel vedere quante persone ripetutamente venivano a farmi visita persone che nemmeno io conoscevo ma che erano venute a sapere dell'accaduto tramite i social mia madre le dicono di tutto di più dicono signora è un miracolo che i medici signora è un miracolo che il suo figlio sia ancora vivo e l'avvisiamo da adesso se e le ripetiamo se in maniera molto elegante ancora stiamo parlando ero in condizioni no ero sommerso dai macchinari perché io a malappena respiravo nelle prime fasi del coma e mia madre vedendomi in quelle situazioni disgraziate insomma non si sapeva se se sopravvivevo in pratica dobbiamo essere onesti vedendomi veramente in quelle condizioni tragiche tutto si poteva immaginare quello che poi effettivamente è successo che cosa successe che io un giorno riesco ad aprire gli occhi appena apro gli occhi mia madre dopo quanto tempo dopo diverso tempo tanto che mia madre caccia fuori un urlo spaventoso e i medici sentendo queste urla corsero immaginandosi che fosse successo il peggio cioè che fosse morto e tutti i medici in primis stentavano a credere a quello che stavano vedendo con i propri occhi io ero vivo e parlavo muovevo ovviamente in maniera molto precaria gli arti il sinistro in pratica zero anzi la mia grande fortuna è stata che tutte le pressioni che venivano fatte venivano fatte sulla parte destra del corpo perché io a sinistra ce l'avevo praticamente praticamente morta non rispondeva agli stimoli non rispondeva per nulla per nulla e mia madre ancora ancora oggi mi ripete che era veramente sorpresa da quante persone in continuazione mi venivano a far visita e di quello stato di coma adesso magari ti faccio una domanda ti ricordi qualcosa un'immagine c'è veramente un episodio del quale io stento a crederci perché tutti mi dicono che è fisicamente impossibile che una persona possa ricordare qualcosa del periodo in cui è in coma ecco perché ti ho detto questo però io ci tengo a fare questa precisazione perché perché io da perfetto convinto comunista del quale ero e del quale ancora oggi mi sento di essere ho fatto un sogno un sogno un'apparizione ognuno la chiama come vuole ero qua nella spettacolare ed ero diciamo a mare e chi mi viene in visione padre Pio il quale mi fa parentesi il tuo rapporto con la fede qual'era? praticamente nullo anzi ero veramente molto restio nei confronti di chiunque frequentasse gli ambienti cattolici proprio perché ritenevo lì ritenevo solo come uno strumento del potere del potere in quanto chiesa quindi eri sulla spiaggia e ti vieni incontro mi viene incontro padre Pio appena lo vedo quasi lo inizio a prendere a male parole gli inizio a dire padre Pio stai aspettando parlandogli anche in dialetto vedi di salvarmi vedi di fare qualcosa te ne stai sbattendo le palle mentre io qua sto per morire e lui che mi diceva Carlo con una veramente calma allucinante Carlo tu devi stare tranquillo perché i tuoi amici di questo fantastico meraviglioso paese stanno facendo tutto e tu qua tornerai e sto sentendo anche di sottofondo non li avevi preparati questi fuochi d'artificio penso che non li ho fatti io mi sarebbe piaciuto ma non li ho preparati io e dopo questa questo sogno questa questa apparizione chiamiamola come vuoi tu ti svegli quanto passa cosa ti hanno detto no là erano tutti veramente attoniti perché ognuno di loro si aspettava che io potessi diciamo far fugliare qualcosa ma nessuno mai poteva immaginare che io potessi ancora avere il dono della parola dentro di me e io appena sveglio guardo mia madre che era a conscienza del fatto che io a malapena la potevo riconoscere guardandola stranito gli faccio oh ma e tu che fai canta all'argentina oh mamma e tu cosa fai qua in argentina e lei scoppiò quasi lacrime all'ascolto di queste parole quanto resti in ospedale in argentina eh no in ospedale resto ancora diverso tempo perché c'erano ancora da perfezionare i pagamenti perché nonostante i miei amici della meravigliosa roccella avessero accolto tutti i soldi necessari nonostante li avessero inviati tramite la posta mi sembra avevano fatto dei problemi alla ricezione di questi soldi tanto che la meravigliosa roccella ha manifestato il proprio splendore anche attraverso un amico che ho a Londra roccellese Matteo il quale lavora anche lui all'interno di queste organizzazioni e si mette lui in prima persona per far sì che questi soldi vengano sbloccati e alla fine riescono a farli arrivare quello che ti era successo non lo so te lo chiedo i mezzi di comunicazione ne hanno dato notizia tutto questo la famosa Michela era venuta a saperlo sì onestamente Michela lo venne a sapere ovviamente perché ne parlavano anche i sassi di tutto quello che era successo e devo e voglio essere onesto anche a distanza si è prodigata affinché io mi svegliassi inviandomi ad esempio le poesie che ci mandavamo quando stavamo insieme eccetera eccetera e qualche altra persona che durante quel soggiorno forzato in ospedale ecco qua mi tocca la ringrazio di nuovo professore perché ogni cosa che io potessi dire per ringraziare tutto ciò che l'esimio professore Francesco Bigliarolo docente universitario a Buenos Aires che è però originario di questo fantastico paese il quale anche lui appena lui fu in assoluto la prima persona in assoluto di questo pianeta che mi vide quando ero in coma e chiamò quasi piangendo se non proprio piangendo a dirotto suo cugino che è stato uno di quelli che mi ha salvato la vita dicendo che io in pratica ero più morto che vivo che difficilmente ce l'avrei fatta però facendo di tutto affinché i miei potessero avere tutto il sostegno necessario e lui nonostante le condizioni pessime in cui stavo si è prodigato al massimo sarebbe decisamente riduttivo voi provate a immaginare il massimo lui è andato ben oltre riuscendo a far sì che io oggi possa essere qua si è rientrato in Italia quando? dopo quanto tempo? dopo mesi perché io tornato in Italia anche qua devo e voglio condividerla con voi eravamo dentro all'aereo con mia madre il mio fratello e l'ambasciato Elio il grande Elio e arrivati a Roma ci aprono lo sportello mia madre fa a casa e io no ma ancora non siamo a casa perché ovviamente con questa meravigliosa non c'è nulla al mondo e lei no Carlo perché era veramente beh di Giovanni noi non riusciamo a comprendere l'enorme indicibile fortuna dalla quale siamo assediati perché io la cosa che mi piacerebbe far capire anche attraverso la discussione che stiamo facendo è che noi siamo veramente inondati alla fortuna già il solo fatto che te ad esempio adesso stiamo parlando che ci comprendiamo che camminiamo eccetera eccetera sono cose sono cose basilari ok ma sono e tutti noi pensiamo che per noi sono scontate cioè chiunque mi può venire a dire Carlo ma che stai dicendo è ovvio che è scontato è scontato scusate il termine il cazzo perché per noi è scontato noi che abbiamo questa incredibile fortuna provate a dire quando tutto va bene è facile dire così ma quando chi come te ci ha parlato con la morte e allora ogni giorno che ti svegli e guardi fuori dalla finestra altro che fortuna di più io non ho aggettivi per riuscire a condividere con voi l'incredibile ineguagliabile fortuna che noi oggi abbiamo nell'essere qua così e nel poter giorno dopo giorno migliorare perché la mia guerra non è finita professore perché naturalmente noi oggi ti vediamo sono felicissimo troppo gentile veramente pimpante e non non te lo dico tanto per dire ma il livello in cui sei oggi non so quanti medici quando ti hanno visto a Roma avrebbero detto che sareste arrivati a questo livello probabilmente forse neanche ci credevano loro tu potessi arrivare dove sei arrivato fino adesso a livello di recupero sì sì io sono sempre consapevole comunque che il recupero onestamente non finirà mai perché ognuno di noi ha sempre qualcosa su cui deve lavorare qua ci sono dei professionisti inimmaginabili ovviamente io non li potrò citare tutti anche perché non li conosco ma quelli che hanno avuto a fare con me sono stati innanzitutto e questo me lo sono dovuto assolutamente scrivere perché il dottor Gianluca Muscolo è stato non eccezionale professore certo ma è stato molto molto di più e purtroppo ho avuto la sfortuna di non poterlo seguire durante il mio percorso di recupero perché è stato veramente ineguagliabile all'inizio del mio percorso tutto quello che lui ha fatto per me l'ho voluto fare gratuitamente perché amici sottolineiamo che non è mai abbastanza ma insieme a lui vorrei mi piacerebbe ringraziare tutte le terapiste e i terapisti che si sono susseguiti a cominciare dalla dottoressa Anna Gertoma ai dottori Vincenzo Frasca e Mimmo Carone insieme a loro anche Enzo vestito della palestra New Form con il dottor Andrea Capocasale per arrivare ai giorni nostri alla dottoressa Donatella Iannone che mi sta seguendo quotidianamente e insieme a loro che sono stati gli artefici del mio recupero fisico ci sono innanzitutto gli artefici del mio recupero mentale cognitivo diciamo cognitivo mnemonico fra le quali spunta la dottoressa Laura Pizzinga che insieme a tutti i professionisti della nostra terra e insieme al glorioso presidente Mario Alberti ci concedono a tutti noi l'ennesimo motivo per essere altamente fieri della nostra terra e di quello che può e sa produrre nonostante i ripetuti e le palesi difficoltà che si hanno nel lavorare qua e poi l'ho già fatto prima però Giovanni concedimi il disturbo che ti arreco rubandoti altro tempo mi vorrei scusare enormemente col professore Francesco Vigliarolo perché qualsiasi cosa io possa dire per tentare di ringraziarlo sarebbe eccessivamente riduttiva e io ringrazio te Carlo innanzitutto perché hai voluto e hai accettato il mio invito a condividere la tua storia e l'abbiamo raccontata partendo proprio dalla tua nascita perché il mio obiettivo era proprio quello di ricostruire la figura la personalità di Carlo Iannuzzi e non di raccontare soltanto quell'episodio quella tragedia che c'è stata ma è un pezzo un pezzo della tua vita e nella tragedia ed è la tragedia tu ci dimostri quotidianamente come si possa venire fuori con grande tenacia e anche ottimismo guardando guardando al futuro è quello di cui non mi stancherò mai di ripetermi e di ripetermi ragazzi per favore raggiungete la giusta consapevolezza nel capire quanto cazzo siamo fortunati siamo inondati dalla fortuna ma non lo sappiamo perché perdiamo tempo a cercare il nulla senza avere la consapevolezza che abbiamo già tutto non aggiungo altro se non i saluti ai nostri ascoltatori se ancora Giovanni troppo gentile un abbraccione ti aspetto nella splendida l'intervista un podcast di Giovanni Certomà l'approfondimento dell'attualità come inside 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 Grazie a tutti.